Questa è la giusta quantità per poter coprire un'unghia naturale. Vado a depositare il prodotto sull'unghia, imbevo il pennello nella soluzione wipe off, dopodiché inizio a modellare. Premo innanzitutto nel giro cuticole per abbassare il prodotto e dopo scendo nei laterali. Una delle caratteristiche dell'acrigel è che non cola, quindi vi permette di lavorarlo con tutta la calma. Quindi cercate di concentrarvi a creare il giusto rinforzo dell'unghia naturale nel giusto punto. Grazie. Ora polimerizziamo il lampa da 60 secondi e procediamo con la limatura. Grazie. 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 Grazie a tutti.